Io ritengo un bilancio positivo che è stato fatto di grande lavoro, sono molto fiducioso che le cose possano ancora ulteriormente migliorare, chiaramente c'è tantissimo da fare perché abbiamo dovuto riavviare una macchina amministrativa che oramai era ferma da mesi, quindi l'avvio è stato molto faticoso. I temi principali quali saranno? I temi principali saranno sicuramente il miglioramento di una serie di servizi, quindi trasporti, igiene urbana verde e poi lo sblocco di una serie di cantieri di trasformazione urbana, opere pubbliche ferme da molto tempo, il tema della ripavimentazione delle strade, la sistemazione dei marci a piedi, cioè tutti quegli interventi di manutenzione che per un motivo o per l'altro negli ultimi anni non si sono mai realizzati. Sul trasporto? Sul trasporto, noi siamo molto concentrati su sbloccare questa questione dei treni della metropolitana che sono oramai fermi da mesi per riuscire ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio. Grazie. Grazie.